In questo tutorial vediamo degli esercizi di riepilogo sulle progressioni aritmetiche. Partiamo da questo primo esempio. Determina l'ultimo termine di una progressione aritmetica di otto termini, il cui primo termine è meno sei, sapendo che la somma degli otto termini è centoventi. Dal testo possiamo osservare che conosciamo il primo termine, è meno sei, e allora scrivo che a uno risulta essere pari a meno sei. Sappiamo anche il totale dei termini, otto, e quindi n è pari a otto. Infine conosciamo la somma che è pari a centoventi, e allora posso scrivere che s otto è pari a centoventi. Lo scopo è determinare l'ultimo termine di questa progressione aritmetica. Per far questo utilizzerò questa formula. Sn è pari a sotto e scrivo centoventi uguale n, che risulta essere pari ad otto, per a uno più an. A uno è pari a meno sei, e quindi scrivo meno sei più an risulta essere pari ad a otto, tutto quanto fratto due. Ottengo così un'equazione che vada a risolvere. Come prima cosa semplifico due con otto. Due diviso 2 ottengo 1, otto diviso 2 ottengo 4. Eseguo ora questa moltiplicazione. Centoventi uguale meno ventiquattro più quattro a otto. Porto ora quattro a otto a primo membro e meno centoventi a secondo membro. Meno 4 a otto uguale meno ventiquattro meno centoventi si ottiene meno centoquarantaquattro. Moltiplico ora tutte e due membri per meno uno e poi divido tutti e due membri per quattro, semplificando il coefficiente di a otto. Quello che si ottiene è a otto uguale centoquarantaquattro diviso quattro risulta essere pari a trentasei. Passiamo a questo secondo esempio. In una progressione aritmetica a uno è uguale a meno due e la somma dei primi sette termini è quarantanove. Trova la ragione. Dal testo conosciamo a uno che è pari a meno due. Conosciamo anche il totale dei termini, risulta essere pari a sette e quindi scrivo n uguale sette. Inoltre conosciamo la somma e quindi posso scrivere s sette uguale quarantanove. Come prima cosa utilizzerò questa formula. Sn è pari ad s sette e risulta essere pari a quarantanove uguale n dove n è pari a sette per a uno più an. A uno risulta essere pari a meno due più an che posso scrivere come a sette, l'ultimo termine della progressione. Tutto quanto fratto due. Ora da questa equazione ricavo a sette. Come prima cosa moltiplico tutti e due membri per due e semplifico il due a denominatore a secondo membro. Due per quarantanove risulta essere pari a novantotto uguale. Sette per meno due e si ottiene meno quattordici. Poi sette per a sette e scrivo più sette a sette. Porto ora sette a sette a primo membro e meno novantotto a secondo membro. Meno sette a sette uguale meno quattordici meno novantotto è pari a meno centododici. Moltiplico ora tutte e due membri per meno uno e poi divido tutte e due membri per sette semplificando il coefficiente di a sette. Sia così che a sette risulta essere uguale a centododici diviso sette ossia sedici. Una volta che abbiamo determinato a sette per andare a determinare la ragione della progressione possiamo utilizzare questa formula. An ora lo conosciamo che è sedici. a uno già era noto ed è pari a meno due n è pari a sette quindi l'unica incognita risulta essere d e allora posso scrivere an ossia sette che è pari a sedici uguale a uno che è pari a meno due più n meno uno 7 meno uno e scrivo sei d. Risolvo ora questa equazione. Meno sei d uguale meno diciotto. Moltiplico tutte e due membri per meno uno e poi divido tutte e due membri per sei semplificando il coefficiente di d. Quello che si ottiene è d uguale diciotto diviso sei ossia tre. Passiamo a questo terzo esempio. Per quali valori di a i tre termini due a meno tre a più uno tre a più sette sono in progressione aritmetica? Per risolvere questo esercizio dobbiamo ricordare che la differenza tra i termini consecutivi di una progressione aritmetica risulta essere costante e questa costante è proprio la ragione aritmetica. E allora vado a scrivere che la differenza tra il secondo termine e il primo termine e quindi a più uno meno apro la tonda due a meno tre deve essere uguale alla differenza che c'è tra il terzo termine e il secondo termine e allora scrivo tre a più 7 meno apro la tonda a più uno. Ottengo così un'equazione che vada a risolvere. A più uno meno due a più tre uguale tre a più sette meno a meno uno. A meno due a è pari a meno a. Uno più tre ottengo più quattro uguale tre a meno a è pari a due a. E poi sette meno uno ottengo più sei. Porto due a primo membro e quattro a secondo membro ottenendo meno tre a uguale due. Moltiplico ora tutte e due membri per meno uno. Tre a uguale meno due ed infine divido tutte e due membri per tre semplificando il coefficiente di a. Quello che si ottiene è a uguale meno due terzi. Vediamo quest'ultimo esempio. Dato il quadrato in figura determina il valore di x per cui le tre aree dei triangoli a una, due e a tre sono in progressione aritmetica. In figura è stato disegnato un quadrato. Il lato del quadrato risulta essere pari a x. Sappiamo che questo cateto e questo cateto misurano x. Sappiamo poi che questo segmento risulta essere congruente a questo segmento e la sua misura risulta essere pari a x. Tenendo presente che anche questo lato e questo lato misurano 4, posso di conseguenza dedurre che questo segmento risulta essere uguale al lato del quadrato, ossia 4, a cui togliamo x e quindi posso scrivere 4 meno x. Cosa del tutta analoga vale per questo segmento. tutto quanto vale 4, questo segmento vale x e allora questo segmento barrà 4 meno x. Vado ora a determinare in funzione di x le aree dei tre triangoli. Iniziamo da A1 e scrivo A1 uguale un mezzo per base x per altezza 4 meno x. Calcolo ora l'area del secondo triangolo A2 e scrivo un mezzo per base x per altezza che è pari a 4. Semplificando 2 con 4 si ottiene 2x. Infine calcolo A3, ossia l'area di questo triangolo. Questo lato è pari a 4 meno x. Questo lato risulta essere pari al lato del quadrato e quindi misura 4. E allora scrivo un mezzo per, apro la tonda, 4 meno x per 4. Semplifico 2 con 4 e poi posso eseguire questa moltiplicazione ottenendo 8 meno 2x. Ricordiamo che dobbiamo determinare il valore di x per cui queste tre aree risultano essere in progressione aritmetica. Queste tre aree sono in progressione aritmetica se la differenza tra i termini consecutivi della progressione risulta essere costante e quindi posso andare a scrivere che A2 meno A1 deve essere uguale ad A3 meno A2. Ora utilizzo questa relazione per impostare un'equazione. A2 è pari a 2x e quindi scrivo 2x meno A1. A1 risulta essere questa quantità, ossia x che moltiplica 4 meno x fratto 2 e in questo modo ho scritto il primo membro uguale A3 meno A2. A3 risulta essere pari a 8 meno 2x meno A2. A2 risulta essere pari a 2x. Ottengo così un'equazione che va da risolvere. Ricopio 2x meno, eseguo questa moltiplicazione, 4x meno x alla seconda fratto 2 uguale 8 meno 4x. Porto ora meno 4x a primo membro e sommando con 2 si ottiene 6x meno, linea di frazione, 4x meno x alla seconda fratto 2 uguale 8. Eseguo ora il minimo comune multiplo ed ottengo 12x meno 4x più x alla seconda uguale 16. Porto ora 16 a primo membro e riscrivo l'equazione in forma canonica. x alla seconda, 12x meno 4x si ottiene più 8x e poi porto 16 a primo membro, meno 16 uguale 0. Applico adesso la formula risolutiva. x uguale meno b ossia 8 più o meno radice quadrata di 8 alla seconda meno 4x1 per meno 16 a conti fatti è pari a 128, tutto quanto fratto 2. La radice di 128 è pari a 8 radice di 2 e quindi scrivo meno 8 più o meno 8 radice di 2, tutto quanto fratto 2. A numeratore ora mette in evidenza un 2. Semplifico in questo modo il 2 al denominatore. Ottengo così due soluzioni. La prima meno 4 più 4 radice di 2. La seconda meno 4 meno 4 radice di 2. Osservo che questa soluzione non la possiamo accettare in quanto otterremo un valore di x minore di 0, ma x rappresenta la misura di un segmento, quindi non è ammissibile. Meno 4 più 4 radice di 2 risulta essere una soluzione ammissibile, in quanto questa quantità non solo è maggiore di 0, ma verifica anche le condizioni di vincolo su x. x deve essere comunque un valore che si trova tra 0 e 4. Questo numero, oltre a essere maggiore di 0 risulta essere minore di 4, quindi è ammissibile. E con questo termino il tutorial su esempi di riepilogo sulle progressioni aritmetiche.